Pulizia delle macine del macina caffè Si consiglia di effettuare questa pulizia ogni 3-4 kg di caffè macinato per eliminare le incrostazioni rilasciate dagli oli e dai grassi contenuti nel caffè che irranciviscono e possono creare delle muffe Il materiale occorrente è il seguente quindi una tazza per cappuccino, un contenitore e un prodotto apposito per la pulizia delle macine Andiamo a togliere l'alimentazione dal nostro macina caffè Rimuoviamo il coperchio dalla campana e versiamo in un recipiente il caffè che abbiamo nella campana Diamo alimentazione al nostro macina caffè E adesso andremo a eliminare i chicchi di caffè che sono rimasti tra le macine Prendiamo una bustina di prodotto La versiamo all'interno della campana Andiamo a scuotere un po' la campana al fine che vada a finire interamente tra le macine E adesso andiamo ad azionare il nostro macina caffè fino ad esaurire tutto il prodotto Con un panno andiamo a rimuovere i residui di prodotto Rimettiamo il nostro caffè in grado nella campana e consigliamo di eliminare le prime due o tre macinate Mettiamo il nostro corso Grazie.